Nome e cognome? Pedro Poveda. Quello delle maestre? Potrei fare catechesi anche alle grotte. Sono il nuovo prete. Le grotte non hanno un prete. È qui che fate la scuola. Sì, sto documentando sul problema dell'educazione in Spagna. Prima andrebbero formati dei maestri cristiani. Sacerdote, pedagogo, umanista, martire della rivoluzione spagnola. La vita di Pedro Poveda raccontata nel film di Pablo Moreno. Dov'è il prete? Lo hanno appena portato in Caglie del Piemonte. Poi lo hanno portato subito in Caglie Narvaes.